Lui è il Crispy McBacon, il nostro panino più amato, talmente amato che i suoi lovers farebbero qualunque cosa per lui, come Stefano, Giulia e Niccolò. In realtà io ho un Crispy Tattoo già ce l'ho. Che da anni lo portano sulla pelle ed è ispirandoci a loro che è nato The Crispy Tattoo, la più grande dichiarazione d'amore al panino più amato di sempre. Insieme a Fedez abbiamo lanciato l'iniziativa. Stai pensando anche tu di fartelo? Partecipa all'evento per Crispy Tattoo. Tante persone hanno dimostrato il loro amore per il Crispy, non soltanto con ogni centimetro del loro corpo nel mondo reale, ma anche nel metaverso e sui social. Perché il vero amore lo senti sulla pelle. Ha un gusto unico E ti fa dire Cosa non faresti per il Crispy McBacon?